Con una doppietta di paudice il Giulianova espugna il campo dell'atletico Terme Fiuggi riducendo le distanze dal quartultimo posto e sfoderando una prova di grande sostanza che lascia ben sperare per il lungo rush finale del torneo. In terra lasiale i giallorossi hanno offerto una prova positiva dimostrando di essere più vivi che mai. Bitetto allo stadio capo Iprati recupera Demoleone in difesa ma deve fare a meno di modi c'è caso. Giallorossi in campo con il 3-5-2 all'ottavo minuto Brivido in area abruzzese con il pallone colpito da Forgione sugli sviluppi di un angolo e che termina di un soffio a lato dopo aver lambito il palo esterno. Al decimo ospiti però in vantaggio al primo affondo con il gol di paudice che in contropiede con un tiro a giro mette la palla alle spalle di nuovi. Atletico Terme Fiuggi 0 Giulianova 1 con i giallorossi galvanizzati dal fulminio vantaggio e che rispondono colpo su colpo ai locali di mister Incocciati. A fare la partita è però la formazione di casa che colleziona diversi angoli di fila crescendo con il trascorrere dei minuti. Al ventiquattresimo proprio su corner di Basilico parabola beffarda del pallone che finisce sul palo di destra della porta difesa da Mora. Al ventiseiesimo ancora pericoloso il Fiuggi con Gaetani che in area conclude alto. Soffre in questo frangente di gara l'undici giallorosso con il laziale del Duca che al trentaduesimo di testa mette alto. Si arriva così nell'ultima parte di prima frazione con i padroni di casa in costante proiezione offensiva e con del Duca ancora impreciso al trentacinquesimo con la sua incornata in area fuori dallo specchio. Ma in agguato c'è ancora il Giulianova e sempre con Paudice che al quarantaquattresimo servito alla perfezione davanti a Novi non sbaglia segnando il gol del 2-0 per il Giulianova con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa al decimo Giulianova vicino al Tris con il colpo di testa ancora dello scatenato Paudice che sotto misura mette di poco alto. Sciupa in questo avvio di seconda frazione la squadra ospite con ancora Paudice al tredicesimo che manda il pallone a mezzo palmo dalla traversa della formazione di casa. C'è così ancora da soffrire con le proteste locali al quattordicesimo quando Forgione cade in area abruzzese dopo un contatto e con il direttore di gara che fa proseguire con ampi gesti proteste da parte dei giocatori delle fiuggi ma il direttore di gara è irremovibile. Il match resta palpitante aperto anche se rispetto al primo tempo il fiuggi è meno incisivo e alla mezz'ora la formazione laziale resta anche in 10 per il secondo giallo sventolato Rizzitelli che è così costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Padroni di casa in inferiorità numerica e che perdono così anche certezze non riuscendo fino al termine a creare altri problemi alla formazione di Bitetto che tiene senza problemi portando a casa una vittoria di inestimabile valore.